Allora, ciao a tutti, io mi trovo sempre qui a Lavana, Cuba e vorrei entrare nel merito oggi sulla questione coronavirus perché sono tante le false notizie che stanno girando soprattutto in Italia, nei media occidentali ed è giusto fare una chiarezza. Allora, cominciamo nel dire che nessun medico cubano toccherà piede in Italia perché l'Italia non ha bisogno di medici ma ha bisogno di una cura che sia funzionale a questo coronavirus come viene chiamato, che poi è un virus che proviene dalla SARS. E' strano, è strano che questo virus sia scoppiato nel mezzo di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina molto forte, è strano che poi sia apparso in Iran così come è strano che sia apparso in Italia dopo aver firmato accordi, la famosa via della seta, accordi commerciali molto forti con la Cina. Ma la storia, state tranquilli che ci dirà chi saranno stati i responsabili di questa guerra batteriologica e quindi dovranno rispondere anche di crimini di guerra perché questo si tratta. Per il momento a me piace ricordare sempre la storia, la storia cosa ci insegna? ci insegna che per adesso gli unici ad aver usato armi batteriologiche durante una guerra comunque nella storia sono stati gli Stati Uniti, proprio qui a Cuba dove mi trovo durante l'operazione Mangusta, durante l'invasione della Baia dei Porci. Gli Stati Uniti bombardarono con degli aerei i campi delle province centrali di Cuba creando dei morti, più di 300, tra cui 80 bambini, dopodiché introdussero nel 1971 il dengue, la Edis Egipti, le larve di questa zanzara che produce il dengue emorragico di cui anche questo ha causato dei morti, lo importarono poi dopo anche nel 1984 in Nicaragua. Ma torniamo al coronavirus, qua la prevenzione è forte, qui si dimostra ancora una volta che il modello, lo Stato socialista è quello che dà maggiori garanzie e maggiori risposte, ci sono controlli all'aeroporto ormai da più di un mese, controlli forti, ci sono gli scanner quelli che vedano subito se tu hai una linea di febbre o meno, se tu dovessi arrivare con la febbre vieni messo subito in prevenzione sanitaria, che non vuol dire una stanza chiusa a chiave, ma un centro, una clinica medica dove si è eseguito. Sono stati rilevati dei casi, purtroppo alcuni giorni fa, di 4 italiani che arrivavano con un volo da Milano, gli italiani hanno dormito una notte a Lavana, poi sono arrivati a Trinidad e si sono alloggiati e lì si sono subito sentiti male e quindi presi sotto le cure cubane, 3 di loro sono risultati positivi al test del coronavirus. Ovviamente tutto il resto dell'aereo è stato messo in quarantena, come ho detto prima non chiuso in un centro clinico, ma negli ostelli o negli hotel dove si trovano con l'obbligo di dimora, quindi di non poter uscire, è un controllo medico di 24 ore su 24. Le altre prevenzioni che sono state prese appena sono usciti questi primi casi di coronavirus, che rimangono comunque questi 3 italiani più un quarto cubano che è sceso dall'aereo e hanno subito bloccato, che presentava i sintomi e poi il risultato positivo sono stati quelli di chiudere tutti gli eventi nazionali, sia culturali che espertivi, comunque dove c'è assemblamento delle masse e poi fare la prevenzione con le mascherine nei centri strategici, quelli della comunicazione che ovviamente non può fermarsi e soprattutto nei locali sia sanitari che scolastici. Altra bellissima notizia è quella che il fermone cubano è stato richiesto ufficialmente da 25 paesi nel mondo, tra cui l'Italia sta prendendo informazioni su questo fermone. Il fermone è quello utilizzato dalla Cina che viene prodotto sia a Cuba che in Cina, è quello che ha permesso alla Cina di fermare il coronavirus, che cos'è questo fermone? Il fermone non è altro che un medicinale che ormai da anni Cuba ha tirato fuori, che viene utilizzato sia per le terapie contro l'AIDS ma anche nella cura contro il cancro, anche il cancro e i polmoni. Cosa fa questo fermone? Questo fermone moltiplica le cellule che attaccano le cellule cattive, quindi attaccano le cellule in questo caso del coronavirus. Niente, dalla Havana a Cuba vi saluto, aspettiamo notizie ufficiali su questo farmaco che arrivi in Italia, non è assolutamente vera, ripeto la notizia dei medici cubani in Italia, perché l'Italia non ha bisogno di medici ma ha bisogno di una cura. Sperando veramente che l'Italia possa attuare come alla Cina questa cura cubana, come capirete sarebbe un bello schiaffo morale a tutti quei paesi occidentali che hanno sempre dichiarato Cuba un paese dittatoriale e senza diritti umani, mentre Cuba non è mai stato presente in occupazioni illegali come il governo italiano in Afghanistan, in Iraq, in Libia con gli eserciti, ma continua ad investire nella ricerca e nella prevenzione, cosa che anche noi dovremmo rifletterci bene. Saluto da Cuba, ciao!